Esistono problemi idrogeologici, rischio di volo. Per questi motivi, ma non solo, i comitati contrari all'ampliamento dell'aeroporto fiorentino hanno presentato ricorsa al Tar della Toscana, contro la variante Alpit votata dal Consiglio regionale, che consente il potenziamento con una pista da 2000 metri. Gli aerei, dicono, voleranno a 300-400 metri sul cupolone di Firenze. La regione stessa dice che Firenze verrà sorvolata da un 10-12% di voli. I nostri tecnici, tecnici crediamo e pensiamo sicuramente molto preparati, visto che hanno fatto parte dei team di Coppa America, quindi di vento se ne intendono, dicono oltre il 20%. E questo vuol dire 9.000 voli su Firenze. Secondo i comitati, l'aeroporto dovrebbe essere messo in sicurezza mediante l'allungamento di 200 metri dell'attuale pista, che fra l'altro era già stato proposto dal consulente dell'assessore Marson. In caso di realizzazione della nuova pista parallela, continuano i comitati, ci potrebbero essere gli estremi per il ricorso alla Corte dei Conti, per via dei costi connessi allo spostamento del Fosso Reale. E a proposito dell'apertura di un tavolo istituzionale e della mancata presentazione di ricorso da parte del sindaco di Prato, Biffoni, Noi gliel'abbiamo detto, prendiamo atto della decisione che lui si è assunto. Lui sa benissimo, perché l'ha ripetuto anche ieri sera in forma pubblica, che se lui non riuscirà a bloccare l'aeroporto si dovrà dimettere, perché questo ha detto ieri sera. Quello che abbiamo sempre detto è che non sia un modo per ritardare, che non sia il solito modo per fare tavoli, tavolini trattative per far sì che l'opera poi non si faccia. Si deve fare, lo abbiamo sempre detto, il governo su questo ci crede e ci punta. Il ricorso arriva da alcuni comitati però. I ricorsi vedremo poi, insomma, i ricorsi si fanno, poi si discutono, magari non vanno a buon fine.